questo in teoria è una strada non ci sono case isolate ma forse quando ho ripetuto una telefonata da parte dei Vigili Fuoco erano intervenuti qui in via Settepertiche presso alcune abitazioni dove c'era il problema quindi mi sono precipitato in effetti qui dal cortile c'era tutta acqua i signori avevano già iniziato a portare fuori le loro cose poi lentamente l'acqua è rifluita però questa mattina c'era tutta acqua dove siamo adesso noi c'era un buon 10-15 cm di acqua sicuramente grazie 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 grazie